Questo è il mio motto, questo è il motto di chi vive la musica tutti i giorni, che combatte per il metallo italiano, che cerca di raggiungere i mercati europei, americani, perché metallo in Italia, ricordatevi una cosa, è dedicato a voi che ci siete. E adesso dovete suonare voi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.